Buongiorno e bentrovati dalla Val di Fiemme, ci troviamo a Bellamonte. Siamo con la signora Cristina di Chiuso, lei dell'Hotel Sole. Perfetto. Allora Cristina, la stagione è iniziata, sono arrivati i primi turisti, quali sono le sensazioni? Allora la sensazione è che i turisti hanno proprio voglia di ricaricarsi, di rifarsi dei periodi impegnativi che abbiamo lasciato alle spalle, si sentono sicuri perché ci atteniamo a tutto il protocollo di sicurezza e questo li rende tranquilli e quindi pronti a ricaricarsi, a riposarsi, a rigenerarsi ed è bello. I clienti sono gli stessi degli altri anni? Avete visto volti nuovi, ci sono più italiani, meno italiani, com'è la situazione esattamente? Dunque i clienti ne abbiamo una parte sempre si mantiene, si mantengono i soliti affezionati che negli anni ritornano, vediamo i bambini crescere e poi si aggiungono nuove famiglie perché proprio come Family Hotel ormai le gente, le famiglie cercano Family Hotel per avere una certezza di un servizio che fa bene a tutta la famiglia. Per quanto riguarda invece l'hotel in se stesso, avete adottato delle ristrezioni oppure sono tutto come gli altri anni? Allora, attenendoci al protocollo per la sicurezza c'è maggiore spazio fra un tavolo e l'altro. Ricordo che l'albergo ha una capienza sui 150 persone e le nostre sale messe insieme portano 450 persone, quindi c'è massima possibilità di stare distanziati dove c'è questa necessità. Tutto il protocollo di igienizzazione di mascherina nei... È stato fatto. È stato fatto. C'è tantissimo spazio all'aperto qui con paradiso. Il nostro giardino è di 5.000 metri quadrati, quindi c'è spazio proprio per stare a giocare tutti quanti senza avvicinarsi troppo. L'unica restrizione che stiamo mettendo in atto è la prenotazione per l'ingresso al centro benessere. Abbiamo 300 metri quadrati di centro benessere, però accettiamo 12 persone alla volta. In entrata c'è scritto quante persone possono entrare se non sono dello stesso nucleo nell'idromassaggio o nella sauna o nelle saune o nell'idromassaggio. Ecco, per quanto invece riguarda il bonus vacanze, so che voi l'accettate, ecco, le famiglie ne fanno richiesta di questo servizio? Tantissimo, tantissimo. Quello che abbiamo notato è che il bonus vacanze permette a tante famiglie di realizzare questa necessità di andare in vacanza e questo aiuto è stato molto molto apprezzato, devo dire. E ci fa piacere poter aiutare le famiglie. Benissimo. Ecco, una curiosità personale, prima di chiudere, i cervi arrivano. Io ho visto nelle vostre storie social che chiaramente scorazzano qui nel prato davanti all'hotel. Esatto, allora è incredibile e stupisce molto i nostri ospiti vedere come si fanno una passeggiata di prima mattina nel bosco, se si affacciano quando è ancora tutto silenzioso. Cervi e caprioli sono di casa. Sono di casa, fanno parte della famiglia. Già numerosa, si aggiungono altri. Sì, sì, e loro sono molto numerosi per quello che è facile. Allora, vogliamo dare i dati per potervi contattare e effettuare una prenotazione eventualmente? Allora, il nostro sito anche per vedere qualcosa dell'albergo è www.hsole.it e la nostra mail è infochiocciola.it. Il telefono per chi vuole contattarci e sentirci direttamente è 0462 576 299. Benissimo. Allora, dalla bellissima Val di Fiemme, anche un raggio di sole, la signora Cristina, l'hotel Sole e Bellamonte vi aspettano per un'estate stupenda. Speriamo. Vi auguriamo a tutti una bellissima estate e vi aspettiamo qui in vacanza. Buona giornata a tutti.